Ricostruzione delle frazioni ferma al palo, 41 milioni di euro circa stanziati nel 2015 per le frazioni dell'Aquila a fronte degli oltre 400 milioni impegnati per il centro della città. Dopo sette anni, per i consiglieri comunali del gruppo Noi con Salvini, la situazione è inaccettabile. Noi abbiamo fatto la cesta di atti così come lo facciamo l'anno scorso per avere il quadro preciso di quelle che sono la situazione di fatto della ricostruzione delle frazioni. E purtroppo denunciamo, così come fatto l'anno scorso, che sulla ricostruzione delle frazioni è praticamente all'anno zero e ferma. Tenendo presente un aspetto che le somme che vengono impegnate per la ricostruzione dei centri storici delle frazioni sono il 7% dell'importo che viene impegnato per quella che è la ricostruzione della città. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che sulle nostre frazioni e nei centri storici sono ormai destinati a morire. Questa amministrazione aveva dichiarato ai 420 che ci sarebbe stata un'accelerazione durante il 2015. In realtà sono stati stanziati soltanto 41 milioni di euro, a differenza del centro storico della città dove sono stati 465. Il sindaco ha detto che il 2016 sarebbe stato un po' l'anno del rilancio delle frazioni che si sarebbe lavorato su questo. Ci credete? Non ci crediamo perché doveva esserlo già il 2015. Non ci crediamo perché dagli impegni che sono stati fatti per l'approvazione della parte prima delle schede parametriche le proiezioni che si fanno sono sostanzialmente uguali all'anno che è appena passato. Quindi è la solita bufala, poi arriveranno al 2017 con una promessa in campagna elettorale che ricostruiranno, faranno, diranno. In realtà sulle frazioni c'è stato e ci sarà un totale abbandono perché questa amministrazione non è interessata alla ricostruzione dei centri storici delle frazioni. Solleviamo un altro problema che è enorme. Non vogliamo che si verificino le stesse problematiche che si stanno verificando sul centro storico della città riferire ai sottoservizi. Sui sottoservizi nelle frazioni ad oggi ancora non viene posto in discussione nulla. Il che significa che il rischio è che una volta che saranno rifatte le case non ci saranno i sottoservizi. E quindi in maniera molto forte oggi denunciamo anche quest'altro aspetto.